Sette mensilità arretrate per 130 dipendenti del comune di Tortorici, sei di loro andranno in pensione domani, niente salario accessorio dal 2008. Motivi più che validi per organizzare un'assemblea sindacale nell'aula consigliare e pianificare interventi per sensibilizzare le istituzioni e risolvere il problema. Cigelle e Cisleguilla hanno alzato il tiro perché la situazione è insopportabile, come lo è anche il silenzio dell'amministrazione. Da questo momento i lavoratori che sembrano rassegnati al peggio e i sindacati alzeranno il tiro perché le loro recriminazioni non possono restare inascoltate. Sette mesi senza stipendio, un dissesto. Il comune è un dissesto e le istituzioni assenti. Le istituzioni che nonostante i vari ricorsi, i vari esposti che abbiamo fatto a tutti i livelli, dal ministero alla regione siciliana, nessuno si preoccupa del destino non solo dei lavoratori del comune di Tortorici ma soprattutto dei cittadini. i quali si trovano in delle condizioni, ovviamente in un comune, in dissesto, a pagare tasse alte, i lavoratori a non avere un minimo neanche stipendiale. Quando vengono a mancare gli stipendi ai lavoratori sette mesi e c'è anche l'intera comunità che ne risenta ovviamente. Qua non c'è differenza tra dipendenti diretti e contrattisti? Tutti? Assolutamente no, per noi i lavoratori sono tutti uguali, tutti meritano la stessa attenzione, sia quelli di ruolo che sia anche quelli contrattisti. Avete avuto un'interlocuzione col sindaco per capire un po' come è la situazione? Il sindaco? Chi è il sindaco? Il sono non è vero che la situazione dei motivi будут interessentini lo morti della stessa attenzione. Grazie.